4 3 2 1 vai vai a vista piegato 300 al muro giallo sinistra 4 per destra 4 in sinistra 4 in destra 4 a fricento a vista dopo la nicchia sinistra 4 occhio lì piega a destra 50 piega a destra addossato stai attento a vista 100 piegato per imposta ingresso destro doppia chicane apri 100 piega a destra allo stop sinistra destra 2 apri a vista allo stop imposta sinistra 1 fammi vedere chi sei vai così apri a vista 200 spremila tutta dopo le gomme blu imposta a destra 4 in sinistra 4 per subito imposta a destra 2 vai così apri a vista sale sale alla casa destra 4 per imposta scicanna ingresso sinistro apri per sinistra 3 salta tieni 100 tieni 100 scende a vista piegato 200 alle gomme sinistra 4 tieni tieni per destra per destra sinistra 4 scende in destra sinistra 4 per imposta a sinistra 3 chiude a fine rail apri per imposta a destra 1 sale vai così a vista piegato al muro destra 3 al muro destra 3 vai vai 50 a sinistra destra 4 alla fine stringe 100 alla casa imposta a sinistra 2 lunga ripeto sinistra 2 lunga in destra in destra 2 50 in posta a destra 2 e vai forte qua piega a destra per sinistra 4 tieni tutta tieni tieni in destra 4 apri per imposta a destra 2 per subito sinistra 2 vai vai sale sale 100 vai così destra 4 questa destra 4 apri dopo il palo destra 5 apri per sinistra 5 lunga per imposta a destra 2 chiude vai 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 destra 2 chiude qui scende a vista piegato all'albero rosso sinistra 4 all'uscita all'uscita del tunnel in posta a sinistra 2 occhio scivola per destra 3 a vista alla fine della casa bianca in posta a destra 1 facci forte facci forte facci forte qui apri 100 piega a destra dopo il rail imposta a sinistra 3 per imposta a sinistra 2 ripeto sinistra 2 scende vai così vai vai a rail sinistra 3 sale per destra 4 80 per destra sinistra 4 per imposta a chicane ingresso destro vai così apri per destra 3 50 sinistra 4 scende occhio qui 100 alla casa imposta a destra 2 scende vai vai apri 50 per destra sinistra 3 50 per destra 3 vai così che sta andando bene 30 per destra 4 in sinistra 3 ripeto in sinistra 3 per destra 3 per destra 3 per destra 3 per sinistra 3 per imposta a sinistra 1 scende apri 50 imposta a destra 1 vai così vai così scende piega sinistra per piega a destra vai 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 200 a vista piegato dopo le gomme 100 per sinistra destra 4 ripeto sinistra destra 4 dopo le gomme imposta a sinistra 2 vai così occhio qui scivola apri 100 a vista per imposta a destra 4 scende per sinistra 4 apri sinistra 4 taglia questa sinistra 4 taglia vai così vai così apri per destra 4 vai vai per sinistra 4 per destra 4 lunga scende apri per sinistra 5 tieni 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 apri per imposta a destra destra 4 diventa 3 vai così ripeto destra 4 diventa 3 per sinistra 2 in destra 2 bellissima vai zio ballerino apri a vista 100 al palo rosso piega sinistra per piega destra apri al cancello piega destra sconnesso qui è sconnesso qui è sconnesso sale sinistra 4 chiude sinistra 3 dopo le gomme addosso salta alla fine vai così vai bellissima basta grazie 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 grazie